Ciao ragazzi e benvenuti nel mio canale Sì, ho appena rubato il canale di Ivan No, a parte gli scherzi No, eccolo, è arrivato A parte gli scherzi Sul mio canale è appena uscito un video dove parliamo di uno studio dove Vengono sottoposti dei gruppi all'utilizzo e al non utilizzo di testosterone Ma andatevelo a recuperare per prima di vedere questo Adesso andremo ad affrontare nel dettaglio Quali sono gli effetti di 600 mg di testosterone nei gruppi di persone Allora Ivan, quali sono gli effetti di 600 mg di testosterone nelle persone E perché in questo studio bisogna fare delle considerazioni specifiche Allora, perché noi associamo sempre il testosterone all'allenamento Che sia comunque un bodybuilder, che sia comunque un weightlifter Che sia un ciclista Che comunque qualunque persona che ha bisogno di un miglioramento della performance Perché come sappiamo il testosterone non ci fa diventare solamente grossi Ma ci fa diventare anche più forti, più resistenti Migliora il metabolismo mitocondriale Migliora l'utilizzo dell'ossigeno Ovviamente avendo degli effetti che sono associati al metabolismo del tessuto Su cui poi si andrà a legare Utilizzare testosterone e non allenarsi potrebbe teoricamente avere degli effetti deleteri Visto che non abbiamo il muscolo che utilizza questo testosterone Nei soggetti non allenati ovviamente Avrà più modo di andare in circolo e rompere le palle un po' dappertutto Più o meno la stessa cosa che succede quando abbiamo tanta adrenalina in circolo Non lo conosci quello studio dove fanno incazzare due persone Anzi quattro persone, sono due gruppi Di persone, due persone per ogni gruppo Si incazzano tra di loro, un gruppo lo fanno pestare Cioè si possono picchiare L'altro gruppo invece non si può picchiare Non l'ho detto Ivan Poi ne parleremo Parliamo È uno dei motivi per cui le persone muoiono di patologie cardiovascolari Sono ansiose, depresse, patologie autoimmuni Perché quell'adrenalina che tu produci incazzandoti Se ti picchi poi la utilizzi, no? La consumi, si lega al sistema nervoso Un po' come nel film Fight Club Quindi ha realmente senso È uno studio scientifico Esattamente Viceversa se tu la tieni in circolo Si lega al cuore Il cuore rimane alto come frequenza cardiaca Ed è un problema Che guarda Non è tanto diverso rispetto a ciò che succede a un culturista Con alti, alti, alti dosaggi di androgeni Magari l'efedrina, magari i tiroidei Che si allena solamente un'ora al giorno E poi è sedentario considera Perché magari deve crescere in bulk Quindi aumenta, aumenta il peso Non utilizza niente perché cammina poco E si allena e basta quell'ora e mezza Non è proprio il massimo Cioè la frequenza cardiaca gli arriva altissima Perché non ha modo di utilizzare tutte quelle catecolamine Alzate grazie al testosterone E quindi diciamo che c'è questo studio Che un pochino ci dice che cosa succede Ora, il periodo è 10 settimane Non è tanto a dir la verità Però ci può dare un'idea Allora qui vengono somministrati 600mg di testosterone Come abbiamo già descritto tutto quanto nel tuo video Che c'è nel tuo canale Quindi andatevelo a vedere E poi tornate qua Quindi 600mg di testosterone In queste persone sedentarie Che cos'è che hanno apportato? Un aumento della massa muscolare Cioè niente di più, niente di meno E voi penserete Eh ma l'ematocrito No, l'ematocrito qua non c'è però Comunque non cambia in modo significativo l'emoglobina L'HDL L'HDL cambia tanto quanto cambia Della verità ai soggetti col placebo Quindi che non prendono niente L'LDL addirittura si abbassa Perché questo? Perché il testosterone ha un'azione positiva Quando si tratta di marker associati alla sindrome metabolica L'HDL che voi pensate che crashi Quando si utilizza il testosterone No, crasha quando si utilizzano gli androgeni I derivati del didrotestosterone Ma il testosterone di per sé Si converte anche in estradiolo Che ha un effetto positivo sull'HDL E ha un effetto positivo anche nell'LDL In senso che l'LDL si abbassa E per questo che non si ha chissà quale tipo di problema E infatti queste persone stavano bene Ma non solo stavano bene Non erano neanche aggressive Solitamente le persone dicono Vabbè prendi il testosterone sei più aggressivo No, prendi gli androgeni sei più aggressivo Prendi il primobolan ad alti dosaggi Forse sei più aggressivo Il trembolone sei più aggressivo Ma col testosterone che ti diventa estradiolo E ti modula anche il mood No, non lo sei Poi qua tra l'altro lo scrivono Ma scrivono anche un'altra cosa Che mi è un po' Cioè sono rimasto leggermente interdetto Such drugs have potentially serious adverse effect On the cardiovascular system No, il testosterone non ha effetti avversi Da un punto di vista cardiovascolare Se l'olio che viene utilizzato Non è un olio sintetico Perché dovrebbe avere effetti collaterali Se non mi aumenta l'ematocrito Poi gli effetti Cioè l'alterazione Per quanto riguarda la salute cardiovascolare È qualcosa di indiretto È data perché A certi soggetti predisposti L'ematocrito aumenta di tanto Magari chi ce l'ha già 49 l'ematocrito Perché magari fuma Gli arriva a 50-51 Quello potrebbe essere un problema Ma poi è perché anche Hai l'endotelio che fa schifo A puttane Quindi no, non genera problematiche Può generare problematiche invece Ripeto, quando l'olio In cui il testosterone è sospeso È un olio sintetico Come ad esempio il PEG-80 Quindi il polietilene glicol Omonetilene glicol Questi oli qua Quelli sì Sono estremamente pro-infiammatori Ti aumentano l'omocisteina Ti aumentano la proteina ciriattiva Ti aumentano questi marker infiammatori Che vanno a generare un danno all'endotelio Aumentano il fibrinogeno Quello può essere un problema Quindi Quando voi pensate che un brand di testosterone O di steroidi è buono Non è buono perché ha quella cosa dentro Anche perché difficilmente Se prendete un master o non master Se prendete un testo è un testo Se prendete un trend è un trend Cioè non è quello il problema Il primo bolan forse non è facile da trovare Il problema è l'olio che utilizzano Perché se io lo prendo E l'olio è un olio sintetico Che fa male Quel prodotto non è un prodotto buono È un prodotto che ti distrugge dall'interno E quindi ti fai esami del sangue Vedi la PCR elevata La ferritina elevata L'omocisteina elevata E dici porca troia ma sto morendo Sì, se continui muori Quindi utilizzare dei buoni carry oil Dà una buona azione Da questo punto di vista Tornando al carry oil Loro si sono fatti 600 mg Ma 600 mg di testosterone e inantato Non sono 600 mg di testosterone Dovete considerare che 250 mg di testosterone e inantato Dovete toglierci circa un 15-20% Arrotondiamo Togliamo un 20% 250-20% sono 50 mg Quindi sono 200 mg di testosterone puro Su 600 Quindi dobbiamo togliere 120 E sono quindi 480 mg 480 mg è un dosaggio buono di testosterone Direi ottimo direi Però non è un dosaggio associato a chissà quali effetti collaterali Se fatto nel lungo termine Ripeto, dipende sempre da È sempre soggettivo Però stiamo parlando di un testosterone dato Con la possibilità di essere convertito in estradiolo Quindi con l'effetto benefico nell'endotelio L'effetto benefico nella modulazione dell'umore L'effetto non così tanto negativo Nei confronti della prostata A meno che non diventa troppo di idrotestosterone E quindi degli effetti che riescono ad essere in qualche modo bilanciati Anche per la questione dell'SHBG Sex Hormone Binding Globuling Di cui ho fatto il video che trovate nel mio canale In questo caso qui l'estradiolo permette all'SHBG di rimanere un pochino più alte Evitando di avere troppo testosterone libero Anche se comunque Avere tanto testosterone in questo caso è creatore degli effetti Sulla sensibilità insulinica Infatti dimagriscono queste persone Sull'aumento della massa muscolare Per la questione della sintesi proteica L'ultima cosa scritta qua Che c'è scritto Queste droghe hanno seri avversi effetti Nei confronti del prostata Metabolismo lipidico Molto probabilmente si riferisce all'HDL che può abbassarsi E sensibilità insulinica No, il testosterone migliora la sensibilità insulinica Tanto che Quando si stacca da un ciclo di testosterone Si ingrassa Perché il testosterone è il diretto interessato Nell'esternalizzazione del GLUT4 Stessa cosa che fa l'insulina Quella fisiologica ovviamente Non quella che vi sparate dall'esterno Che se le aveva fatte troppo Dopo diventate insulinoresistenti Però normalmente l'insulina ha questo effetto E la metformina Quindi bisogna Bisogna capire realmente Dove sta l'inghippo Perché qui molto probabilmente Gente che non sa nemmeno che cosa fa il testosterone Si scrive queste cose qui Come potrebbe essere fatto un vero studio? Allora se si è interessati A capire se realmente Il testosterone è più efficace Dell'allenamento con i pesi Perché questo studio sembra anche fatto in malafede Del tipo non vi allenate e doppatevi Se volete diventare grossi E' abbastanza È abbastanza controintuitivo A dire la verità Perché una persona Che non capisce un cazzo Potrebbe leggere questo studio Magari non si focalizza Sullo stimolo allenante dato E sul trattamento E dice Cavolo sto perdendo un sacco di tempo E invece non è così Allora uno studio Se il fine è crescere Deve essere fatto bene Quindi anzitutto Al posto che Tenere per un mese Le persone sedentarie E dirgli non allenarsi Le fai allenare E gli fai capire come si devono allenare In modo tale che Inizi un adattamento Gli fai iniziare un adattamento Vanno bene tre volte a settimana? Sì Vanno bene Dieci, dodici serie? Sì Vanno bene tre esercizi A quattro serie Ottimo Dopo il primo mese di prova Gli aumenti lo stimolo In modo tale che queste persone Possono migliorare lì E lì Fai un gruppo col testosterone Un gruppo senza testosterone E un gruppo che Non si deve allenare E che prende il testosterone E lì realmente vedi Una volta che hai dato Quattro allenamenti a settimana A questa persona Quanto aumentano queste persone E quanto invece aumentano Le persone che utilizzano testosterone Con la stessa dieta In senso intendo Con la stessa dieta Li vuoi far crescere? Bene Allora utilizza tutte le conoscenze Che hai Per massimizzare l'ipertrofia Quindi Proteine 2 grammi Perché lui Peso corporeo Da fonti globali Non solamente da fonti animali Per carità O se vuoi le fonti animali 1.5 Solo da fonti animali Perché lo vuoi far crescere o no? Bene Per la crescita devi massimizzare Il quantitativo proteico Che viene dato Non puoi agire col pressapochismo Dare 1.5 grammi di proteine Da qualunque tipo di fonte Senza sapere dopo Da dove le mangia Questa persona qui No bisogna un attimino Equilibrare le cose E così Dopo 10 settimane Puoi dire Ok Queste persone che hanno fatto 4 giorni a settimana 12 Serie Per Seduta allenante Sono cresciuti così Quelli col testosterone Sono cresciuti così E vedrai che magari Sono cresciuti uguali O meno Ok Molto probabilmente meno Quasi sicuramente meno Un'altra cosa Come si vince dallo studio La forza però Delle persone che si allenano Migliora E questo Fa riflettere ancora di più Perché L'hai visto l'allenamento Che gli hanno dato Cioè Se io lo faccio Se tu lo fai Se molto probabilmente Atleti nostri Fanno un allenamento così La forza non gli aumenta Cioè La forza non gli aumenta Gli rimane così Il fatto che sia aumentata Così tanto la forza E Che sia aumentata Anche di 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 molto A dire la verità Alle persone che Che Si sono allenate Rispetto a quelle Che non si sono allenate Andiamo un attimino A prendere Il grafico qui Per vedere Ok Più forza Nella bench press Praticamente 9 9 più o meno 4 chili E praticamente Non è aumentato niente Nel placebo In chi non si è allenato Lo squat 16 più o meno 4 chili E 3 più o meno Un chilo Un chilo I uomini invece Che hanno avuto Testosterone Esercizio Hanno avuto Un aumento Della massa magra Eccetera Cioè La forza In questo caso In chi non si è allenato Non è aumentata Se tu vai a vedere Il grafico Nel placebo In questo caso Che non ha assunto Testosterone E si è allenato È aumentata di più Rispetto a quella Che è aumentata Nel testosterone E questa cosa qui È una cosa importante Perché fa capire Come tu hai bisogno Di spingere Per sincronizzare Per reclutare Le giuste unità motorie E dare un reale stimolo Quindi adattare Il reticolo sacroplasmatico A buttare fuori calcio Imparare Dall'allenamento Questi Non sapevano niente Di allenamento Sapevano davvero poco Perché se la forza Gli aumenta così tanto Al placebo Facendo queste due Tre cagate Vuol dire che Non erano persone Non sapevano Davvero praticamente Niente di bodybuilding E ad esempio Nei soggetti Che hanno preso Testosterone È pure aumentata La forza Ma Proporzionalmente Zero Rispetto all'aumento Di massa muscolare Specialmente Considerando che Il placebo Non è tanto aumentato Di massa muscolare Ma aumentato Prevalentemente Di forza E questa cosa qui Fa riflettere Fa riflettere Che Qua abbiamo dato Alle persone con placebo Quindi che non prendevano Testosterone Uno stimolo Prevalentemente Neurale Quindi Stanno imparando Ad allenarsi Sicuramente Non stanno imparando Non sanno Come reclutare Il muscolo Quindi il testosterone Ha agito Poco Per quanto riguarda La componente Della forza E quindi La sincronizzazione Il reclutamento Perché se tu Non ti alleni Come fa a esserci Una buona Sincronizzazione Il reclutamento Non lo puoi avere Ma agito Nell'ipertrofia Agito nella componente Dove poteva agire Viceversa L'allenamento Per i soggetti Senza testo Agito Nella componente Solo nervosa Che è quello Che succede Nei principianti Nei principianti Se ha un aumento Di forza E la massa muscolare Non aumenta Non aumenta Sì assolutamente Questo studio È da prendere Con le vizie ragazzi E bisogna anche Considerare Come abbiamo detto Nel mio video Che è uno studio Del 1996 Quindi quasi Trent'anni fa Spero che a breve Ne faranno uno Migliore Se no Ivan Mettiamoci insieme E proviamo a fare Uno studio di questo tipo Ragazzi Dai Come sempre Lasciate un like Al canale di Ivan Che adesso è mio Esatto Poi ti lascio le password Ciao 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 ragazzi